E eccoci ragazzi siamo qua allora con le buste del set base però io ho notato questa differenza con ognuna di queste buste alcune vediamo si può benissimamente vedere da qua che Blastoise questo qui è più scuro questo è più chiaro vediamo se è un po' più vicino anche vediamo TM qui vicino a Pokémon non è che è tanto leggibile mentre qui è molto più chiaro così tutte e tre le buste quindi Venusaur, Blastoise, Charizard alcune sono un po' più scure vabbè secondo me sarà un errore di stampa quindi adesso procediamo subito salviamo comunque la busta e vabbè niente vabbè ce ne sono un bel po' quindi vediamo il tempo però non ricordo il trick quindi un attimo solo 1, 2, 1, ok 1, 2, trick spostiamo un po' la telecamera ok Charmilia, Gratini, Magikarp, Nidolon Maschio, Pigi, Machop, Abra, Distruzione di Energia e la rara quindi Energia Psico, Energia Foglia 2, 2 rare no no, allora ho sbagliato io e Puva quindi ho sbagliato il trick qua vabbè ah niente abbiamo un altro Blastoise noto che questo qua è più chiaro quindi con la TM accanto al marchio di Pokémon più... vabbè non è stato proprio questo comunque dicevo sono un po' più difficili queste da aprire adesso non so cosa cambi adesso il trick non lo ricordo vediamo un po' ok quindi ma non so qui cambia il trick rispetto a prima vabbè non fa niente Charmilia, Seal, Professor Rock, Rattata, Ventata, Poliva, Gabra, Diglett, Energia Elettro, Energia Foglia e Electabuzz, raro, Nonolo ok questa è la prima rara Pokémon ovviamente e prima era vediamo Destramento Pupa ok mettiamole così dividiamo avremo un altro Blastoise cercando di salvare eh sì questi qua più chiari sono più un po' più duri i boost sono un po' più vabbè anche l'altra volta dallo scorso ordine ho salvato Blastoise e Charmilia rimanco solo Venusaur allora quindi il trick è uno, due uno, ok uno, due questo è il trick ok Energia Elettro, Energia Psico Magmar, Magikarp Magikarp, Magikarp vabbè Revitalizzazione Bulbasaur, Diglett Voltorb, Ponita Scambio e B-Drill raro, Manonolo ok un altro Blastoise vabbè un altro lo voglio salvare quindi proviamoci se va bene eh no va male benissimo quindi uno due trick cerchiamo di beccare un Charizard anche se è molto difficile quindi Energia Acqua Energia Psico Nivisaur Farfetch Super Pozione Magica Starmi Nidale Maschio Ghastly Weedle PG e un altro B-Drill va bene oltre il primo la prima doppia rara almeno un Charizard lo vorrei beccare vediamo se riesco dai Frank dai è un parto questo ah ecco abbiamo salvato la prima busta di Blastoise le altre quindi le possiamo togliere ecco qua quindi facciamo il trick uno due uno Energia Psico Energia Acqua Poliwhirl Professor Rock Kakuna Poliwag Distruzione di Energia Machop Magnemite Ponita e Venusauro Olo grandissimo grande vai la prima Olo e che Olo ragazzi mettiamo subito nella bustina quindi Venusauro è la prima Olo mettiamola qua direi che sta procedendo piuttosto bene solo un addestramento e poi tutti i Pokémon quindi mi accontento dai abbiamo salvato Blastus quindi possiamo pure distruggere una busta uno due uno ok facciamo così Nidorino Pokeflauto Charmeleon Onix Koffing Abra Starmi Widow Energia Lotta Energia Acqua Poliwrath grande questa mi mancava quindi ho completato il set base ragazzi grandissima grande la cercavo da tempo questa carta per completare il set base ok benissimo sono molto contento fino a dura ok quindi mettiamo uno due uno ok Professor Rock Hunter Dratini Rattata Machop Stario Scambio Ghastly Energia Lotta Energia Elettro e Clefferi raro benissimo un'altra Olo ragazzi mamma mia grandissimo grande grande sono molto soddisfatto finora vediamo un altro Blastoise vediamo Staltarugone gigantesco prostaceo uno dei miei Pokémon di prima generazione preferiti insieme ovviamente a Charizard e Venusaur questo lo possiamo buttare abbiamo detto uno due trick Raticate energia in colore doppia Magmar Metapod Stario Bulbasaur Diglett Ventata energia elettro energia lotta e Raichu ancora grande benissimo un'altra Olo ragazzi bene 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 molto bene imbustiamola e poi apriamo un altro Blastoise questi Blastoise sono molto come dire potenti anche come bustine stanno facendo fare una grande apertura uno due uno trick trick e ballacche Magmar Plus Potenza Porygon Gastly Stario Bulbasaur Doduo Ponita Acqua Foglia e Alakazam Olo grande questa ce l'ho un po' rovinata quindi perfetto un'altra Olo ragazzi si riguardiamo un solo addestramento poi tutte carte Pokémon la maggior parte vedo che sono tutte Olo fino ad adesso 5 Alakazam Raichu Clefairy Polirat e Venusaur benissimo benissimo salviamone un altro va dai Magikarp Revitalizzazione Nidorino Doduo Ponita Voltorb PG Bill Psico Acqua Electrode raro va bene ok creiamo un altro blasto devo salvarle salvarne ma che è oggi tra di lingua no niente da fare ok 1 2 1 Revitalizzazione Raticate Ivisaur Drowsy Starmine Nidoran Maschio Ghastly Widol Energia Psico Energia Fuoco e un altro Raichu Olo bene molto bene meglio una Olo doppia che un addestramento raro quindi preferisco così almeno levendo ok per adesso stiamo prendo solo i i blastoids eh questa l'avevo salvata però l'ho distrutta fa niente no no ecco qua piano piano frenchi nidorino poliwir professor rock magnemite rattata senshi vulpix metapod energia lot energia elettro e il secondo addestramento oggetti smarriti ok per ora sono molto soddisfatto perché ripeto è il secondo addestramento su non so quante buste ma penso almeno già una decina ok siamo quasi a 10 minuti di video questa è l'ultima poi partiamo con la seconda parte ma che cavolo è incredibile questo booster nonostante sono passati quasi più di 10 anni ok plus potenza porigon ivisaur distruzione di energia machop magnemite ponita caterpy energia psico erba e dragonair raro va bene ragazzi allora io stacco proseguiremo con la seconda parte a tra poco grazie a tutti